Musica Bene ragazzi partiamo subito con il primo pacchetto Questa settimana c'è il video di l'happy hour E vediamo chi troviamo assolutamente nulla No cazzo Dio costa Dio costa si No Oh porca troia Porca troia Oddio 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 E ragazzi al quarto posto c'è un tedesco Oh mio dio Io non ho la più palida idea di come mi abbia fatto trovare Però è un po' una magicata Marta No Marta Marta Scheiße 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 Marta No 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 Marta No 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 Non, 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 non. Leggci me la mia putz. Leggi me la mia putz! Scheisse, 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 che drecca, non. Vital, portami un po' di fortuna perché guarda ne ho veramente bisogno, per favore, ti scongiuro ti scongiuro ti scongiuro RIBERIIIF IF IF RIBERII RIBERII SI RIBERII 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 Ma che riperì Falcao e Alaba La coppia porta fortuna Vediamo chi ci porta Il kebab Vediamo chi ci porta Alaba Il kebab Alaba La palla Vediamo Palla duro No 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 Primo pack Il miglior giocatore che ho tolato quest'anno Perfetto Quanto vale Shurley farà 200.000 Shurley 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 Quanto cazzo è forte Esterno desto Quanto cazzo è forte Shurley Esterno desto Come on baby Shurley 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 Oh Shurley heat Wainc Senza guardare Non guardo Lo so Lo so Dovrei guardare ma non guardarti Perché esce Cosa, 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 oh mio Dio, 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 oh 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 Basta. Oddio, oh mio Dio, 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 oh mio Dio! Gareth! Cosa? Oh Cristo! Oddio! Bale, Gareth 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 Bale! Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio E dunque ragazzi questo qua era il secondo episodio delle nuove top 5 pack opening reaction Spero che vi sia piaciuto assai ma non so se avete visto quanto è stato magico quel tedesco che mi ha inviato la sua clip Cioè io quando l'ho vista sono rimasto veramente affascinato perché mai mi era capitato che un tedesco mi mandasse un messaggio con sopra la sua clip Quindi è stata veramente una cosa abbastanza tattica E però se devo essere sincero io ho avuto un po' di difficoltà nell'editare questo video, o meglio nell'assegnare le posizioni, le rispettive posizioni ad ogni clip Infatti all'incirca tutti si equivalevano, non è che ce n'era una che sovrastava potentemente le altre come magari era successo nell'episodio numero 1 Quindi magari se potete fatemi sapere se voi avreste utilizzato il mio stesso ordine oppure se avreste scambiato qualche clip In modo tale che io possa sempre di più venire a conoscenza dei vostri gusti e migliorare sempre nel prossimo episodio Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica Poi vi colgo un attimo un minutino per augurare a voi e a tutte le vostre famiglie una buonissima Pasqua Infatti se tutto va bene oggi è il 20 aprile del 2014, è una domenica E tecnicamente parlando no, se togliete tecnicamente parlando oggi è Pasqua Quindi tanta Pasqua a voi, tanti auguri di buona Pasqua, anche di Pasquetta Perché non so se ci sentiremo lunedì E ultimissima cosa ragazzi, volevo un attimo parlare, o meglio tirar fuori l'argomento Il pink palo di Bellman 8 match perché ragazzi il video non ha raggiunto, ahimè, i 4500 mi piace Ma se questo li raggiunge io andrò a pink palarlo Per altre informazioni magari seguitemi sulla pagina Facebook Che è detto questo ragazzi, dunque spero che questo video vi sia piaciuto E vi dico potente, a pala ci sento questo video, bolla Eh no, eh no, eh no, mi sono scordato di dirvi la cosa più importante Perché ragazzi per mandare avanti questa serie mi servono le vostre clip Quindi mi raccomando registratevi durante, o meglio mentre abite qualche pacchetto Cosa dovete fare dunque in poche parole Voi vi prendete il vostro bel dispositivo per registrare Che può essere sì un telefono ma come anche una scheda d'acquisizione Questa è la particolarità delle top 5 opening reactions Poi vi aprite i vostri bei pacchetti, vi trovate il vostro bel giocatore Fate la vostra bella reaction Poi successivamente vi portate il video che avete appena registrato sul computer Se c'è bisogno lo editate e poi lo caricate su YouTube come video non elencato Dopo aver fatto ciò mi invierete un messaggio privato su YouTube Mi raccomando su YouTube con come oggetto top 5 opening reactions E diciamo come testo il link del video, del vostro video come non elencato E boh ragazzi mi raccomando fatelo Detto questo io vi risaluto e vi dico potenta, ripotenta Alla prossima video, bolla